Uno stop che non ci voleva per il Teramo perché rilancia una concorrente per la salvezza diretta come il Fano e perché rappresenta un deciso passo indietro sotto il profilo del gioco, ma anche della determinazione rispetto all'ultima gara al Bonolis contro il Rimini. La formazione di casa allenata da Massimo Epifani conquista così tre punti con i quali aggancia in classifica proprio il Diavolo a quota 27. La zona rossa è solo a due lunghezze, come dire, la classifica torna a fare paura e domenica dura gara interna con l'ambizioso Monza. Intendiamoci, il Fano non ha fatto grandi cose ma ha saputo sfruttare al meglio un calcio di punizione giocando con maggiore cattiveria al contrario di un Teramo apparso poco reattivo una volta colpito. La squadra di Maurizzi ha fatto davvero poco per pareggiarla. La partita, Biancorossi privi di Celli, Piacentini, Speranza e Zecca con Maurizzi che conferma in blocco l'assetto difensivo innervando la mediana con Spighi e Giorgi e confermando Armeno sulla fascia mancina. Tre gli ex Biancorossi in campo, due dal primo minuto, Vitturini in Lulli, uno in panchina da Silva. Con la parte primo tempo povero di azioni, al nono ci prova il Fano sugli sviluppi di una punizione, Sosa colpisce di testa, la palla danza pericolosamente in area senza che nessuno intervenga. La gara scorre via senza sussulti, al 39esimo l'equilibrio si spezza. Altro calcio di punizione del solito Liviero, stavolta il colpo di testa di Celli è vincente. C'è più di un tempo per riprenderla, eppure anche nella ripresa il Teramo entra in campo troppo molle. All'ottavo altra punizione per i padroni di casa, stesso cliché con Liviero che batte e Celli che sfiora il secondo gol personale. Il Teramo si vede in due occasioni, al 19esimo combinazione Giorgi Spighi, Voltolini neutralizza in due tempi. E poi a sette minuti dal novantesimo con un tiro dalla media distanza di Infantino, imbeccato da una spizzata di Barbuti entrato in corso d'opera. Due minuti dopo, l'ultimo brivido della partita è del Fano. Ferrante si libera bene al limite, ma la sua conclusione non inquadra la porta. E così, dopo quattro minuti di recupero, il direttore di gara di Graci di Como fischia la fine. Allo stadio Mancini, Fano batte Teramo 1-0.